Non si può dire che Enrico Ventana sia uno che sopporti gli imprevisti, per quanto siano assolutamente casuali e inaspettati. Striscia la notizia in un servizio mandato in onda il 19 novembre ha infatti mostrato ai telespettatori un inconveniente capitato durante il Tg La Sette e la reazione un po' nervosa del direttore. La giornalista del telegiornale ha lanciato un servizio sull'articolo 18. L'audio era giusto ma ad andare in onda sono state le immagini relative ai festeggiamenti per l'atterraggio di Rosetta. L'inviata allora si è scusata ma si è visto chiaramente Mentana un po' alterato. Il giornalista ha poi commentato rivolto ai telespettatori. Chiedo scusa, verificheremo cosa è successo. Se poi succede ancora, sospendiamo il telegiornale perché fare la figura degli scemi!